L'unione dei 30 tour operator di Inside Market Live incontra l'accoglienza di alta qualità della catena Lindbergh Hotels & Resorts di Nardo Filippetti. All'Hotel Excelsior è stata presentata oggi il punto di partenza di una partnership volta a favorire l'incoming nazionale e internazionale del territorio, soprattutto in un momento cruciale, ovvero alle porte di Pesaro, capitale della cultura 2024. Abbiamo pensato che in occasione di un appuntamento importante come Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, potesse essere una buona idea quella di mettere insieme strutture ricettive di qualità e anche il lavoro dei tour operator che fanno in coming, cioè quelli che tutti i giorni si occupano di promuovere e commercializzare la destinazione Marche e ovviamente in questo caso Pesaro e il territorio del pisarese. Noi naturalmente ci metteremo tutto il nostro impegno soprattutto per lavorare nel campo digitale, ovvero costruire pacchetti e prodotti che possono essere distribuiti sia in Italia che nel mondo in maniera veloce, facile e soprattutto meno costosa rispetto anche alle modalità di lavoro che si utilizzavano in passato. Sicuramente continueremo a mandare alle fiere, workshop, però comunque oggi la presenza sui mercati digitali consente di poter vendere meglio e di più la destinazione, quindi far conoscere, far apprezzare le esperienze che ci sono nel nostro territorio a un turismo insomma anche internazionale che è quello fondamentalmente che ci manca. All'hotel Excelsior il padrone di casa Nardo Filippetti ha animatamente spronato la neonata sinergia verso un unico macro obiettivo, sollecitare ogni strategia funzionale ad accrescere la riconoscibilità all'estero di Pesaro come destinazione turistica. E' inutile che parliamo di costituito rapporti, società, consorsi, collaborazione, tutte parole al vento. Investiamo quelle poche risorse che ci sono nel comunicare che noi esistiamo, ma esiste la destinazione. Ognuno di noi quando va in vacanza va in un posto perché c'è qualche cosa che gli risponde o che cerca. Poi quando è in quella destinazione può trovare un albergo a una stella, un camping, un Airbnb, un albergo a otto stelle, però tutto quanto è sodio, è promozione che oggi la promozione non si può più fare come 50 anni fa ancora con la Vallegetta in giro per il mondo avendo dei costi importanti da sostenere per poi divulgare il sapere così a piccole, così parcializzato. Oggi un bravo web marketing nell'associazione loro che hanno costituito ritenga che riesca a sviluppare molto più domanda e richiesta piuttosto che non ognuno di questi tour operetto che vada in giro per il mondo a dire che esiste la città di Peso o le Marche. Io parlo di Peso, i nostri investimenti sono stati fatti su questa città, ma se andiamo su internet a cercare come destinazione turistica per le vacanze, Pesaro non appare mai. Allora, se Pesaro non è nota, è difficile fare impresa turistica in una città sconosciuta per il turismo. E anche se andiamo a digitare destinazione turistica balneare, ancora Pesaro non appaia. Allora vuol dire che qualcuno che gestisce la politica di questa città e deve dare la visione, bisogna che qualche domanda si faccia. Perché? Piuttosto che fare solo investimenti nel territorio per rapporti clientelari, per stare d'accordo con quello. Questa è l'altro. Basta di queste sagre o di queste fiere piuttosto che non fare degli investimenti giusti per la destinazione. Un'unione che cerca dunque una sponda nella politica, non solo in quella di Pesaro, rappresentata nell'occasione dall'assessora Francesca Franquellucci, ma anche in quella regionale. Non siamo rimasti molto contenti per il fatto di avere aperto un volo, per cui ovviamente ci fa piacere, con Parigi, che è stato presentato proprio ieri all'ambasciata di Francia, e non aver coinvolto invece gli operatori che fanno incoming, perché comunque sarebbe bastato semplicemente anche in quel caso un incontro anche con gli operatori francesi per poter dare a noi la possibilità poi di vendere la destinazione. Mi auguro che sia stata solo una disattenzione e che sicuramente in futuro possa esserci una maggiore attenzione rispetto a questo.